In questi giorni stiamo assistendo a tumulti nelle piazze italiane, momento di incontro tra persone per manifestare un'idea, un'intenzione, un pensiero e questo non accadeva da moltissimi anni, almeno in Italia non accadeva da moltissimi anni, che le piazze tornassero a essere luogo di incontro delle persone per manifestare un'idea, per discutere di un'idea, come avveniva in antichità, ovvero la piazza era il luogo dove si manifestavano e si incontravano le idee differenti, si analizzavano le varie possibilità, luoghi dove il popolo era presente, anche se in alcuni momenti della storia non avevano modo di manifestare in piazza o comunque di essere presenti in piazza. Abbiamo visto la piazza di Roma, seppur poi degenerato il tutto per atti violenti o comunque per momenti non proprio pacifici, ma si è notato però la positività di un luogo, in questo caso piazza del popolo, che era realmente la piazza del popolo. Abbiamo visto anche in altre città, comunque anche prima, ma anche in questi ultimi giorni, dove si è manifestato, la gente si è raccolta in un luogo pubblico, un po' un atto dove sarebbe più logico fare più spesso per poter discutere e far presente le proprie idee e non commenti, post o messaggi sui social dove la forza espressiva è molto molto inferiore. C'è un ritorno quindi alle piazze vere, le piazze urbane, mettendo da parte quelle piazze sociali che hanno ultimamente rovinato un po' la vera socializzazione. Qual è il futuro delle nostre piazze? Il loro futuro è legato alla loro origine, ovvero quella di essere luogo della gente, di incontro della gente, di incontro di pensieri, incontro di idee, idee anche differenti, quindi dove discuterne, luogo di discussione, naturalmente pacifica, luogo di discussione seria e ben strutturata. Chiaro che nella storia ci sono stati anche momenti dove le piazze sono stati luoghi di errore, luoghi dalla quale stare lontani perché era pericoloso, ricordiamoci in Italia anche gli anni in cui scoppiavano bombe nei luoghi pubblici e quindi nelle piazze succedeva qualcosa di molto violento e quindi erano luoghi dove stare alla lontana o stare attenti. Però in questi giorni abbiamo visto che le piazze in realtà la gente è più consapevole, è più capace di manifestare con più attenzione cercando di evitare la violenza. chiaro che ci può essere sempre la testa malata che si introduce, che interviene, che fa qualcosa di anomalo, però è un grande passo quello di tornare a utilizzare piazze per manifestare un'idea e allontanarsi un po' da quelle piazze virtuali che non permettono una vera manifestazione di un'idea, di un pensiero, ma semplicemente alimentano lo scontro verbale anche in modo esagerato perché la non presenza fisica permette a molte persone di comportarsi in modo non del tutto proprio lineare. La città che adesso quindi sta cambiando, una città che con queste manifestazioni, al di là dell'ideologia che si ha, quindi di essere a favore o contrario a ciò che viene manifestato, è un segnale positivo per la vitalità delle città, la vitalità dei nostri luoghi urbani. Città che tornano a vivere non solo per i servizi, non solo per l'economia, il commercio, ma tornano a vivere per le idee, per i pensieri. Le città tornano ad essere luoghi non dove le persone sono degli acquirenti, quindi gente che acquista, ma abbiamo visto l'utilizzo della città come luogo nella presenza di persone che manifestano la propria idea, quindi la propria personalità, quindi la propria persona, il proprio essere. E cioè positivo, quindi, perché la città torna ad avere energia vitale, energia propulsiva, un'energia che è positiva, un'energia che se viene sfruttata in modo adeguato, quindi anche da chi si occupa di urbanistica, si occupa di amministrare le città, può permettere a queste città di ringiovanire, di riacquistare la loro, la vera essenza di luogo urbano, e quindi il luogo dove le persone sono al centro della vita cittadina.